Serata movimentata quella di ieri sera in pieno centro storico a Fano. Carabinieri sono dovuti intervenire nel centralissimo Corso Matteotti sotto le loggie di Palazzo Gabuccini per un piccolo incendio innescato da un clochard. Si tratta di un italiano di 51 anni senza fissa dimora che vive di accattonaggio. Poco dopo le 20 e 30 all'angolo con via Montevecchio per ragioni ancora sconosciute l'uomo ha versato del liquido infiammante sul suo borsone contenente effetti personali dandogli fuoco innescando così un piccolo rogo sotto gli occhi attoniti dei passanti e dei commessi dei negozi che stavano chiudendo in quel momento. Sul posto è arrivata una gazzella dei carabinieri della stazione di Fano. L'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol è stato prelevato dai sanitari del 118 allertati nel frattempo che lo hanno trasferito al pronto soccorso del Santa Croce dove è stato trattenuto per intossicazione da alcol fino alle prime ore della mattinata di oggi dopodiché è stato dimesso.